Niente, al suo versano hanno l'arte nel sangue, inizia così l'accensione del villaggio di Natale. Deriva da Natino Natus, nascere, è Alem, che indica appartenenza, appartenere alla nascita. Il Natale, il primo giorno di vita della vita. E' il principio, l'inizio di tutto, l'inizio per tutti. Ed è proprio qui noi vogliamo rinascere, rinascere dal nostro paese d'appartenenza. Anche quest'anno Supersano riprende vita. Le vie nel borgo ritrovano la luce, i vicoli spogli si vestono di arte. L'arte. Hans grazia artis. La grazia dell'arte è l'arte stessa. E' qui che le mani danno sfogo alla creatività, creando un'atmosfera magica. Come il carnevale, la maestria nell'adoperarsi dà ai lavori il suo calore. Il calore dei bambini, delle famiglie, degli amici, che all'unisono hanno realizzato tutto ciò. Il villaggio di Natale, interamente fatto a mano, è frutto della mano della gente di Supersano. E così, come a carnevale, il legno, il ferro e la cartavesta diventano i protagonisti, trasportandoci in una magica realtà, capace di far brillare gli occhi a tutti. E il Natale unisce. Quest'anno, intere generazioni si sono ritrovate insieme per un unico progetto. Rendere magico il momento. Maestri artigiani, mamme, bambini, nonni, tutti all'unisono si sono impegnati per dar vita alla seconda edizione di Christmas per le vie del Borgo. Ed è grazie a loro che assisterete a tutto ciò. Però, il Natale, ti fa pensare a chi non c'è più. E sì, quando qualcuno ti manca, è proprio in questo periodo che lo senti di più. Avremmo voluto che foste con noi. Intracciare le vostre mani. Mani che ancora oggi riusciamo a percepirne il calore. Il Natale. Il Natale è ogni volta che sorridi a un fratello. Ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È il Natale ogni volta che riconosci i tuoi limiti e le tue debolezze. Ogni volta che permetti al Signore di rinascere, perdonarlo agli altri. Allora senti il Natale. Allora senti il Natale. Da piccoli gnomi accompagnano Babbo Natale. Sei emozionato, mi sa? Molto. Chissà quanta fatica, quanto stress, no? Per realizzare questo lavoro. Vediamo, vediamo che cosa sta per succedere. Eccoli, stanno arrivando. Eccoli, stanno arrivando. Eccoli, stanno arrivando. Eccolo, stanno arrivando. Eccolo, stanno arrivando. Allora senti il Natale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.